Buonasera a tutti e benvenuti. Mamma mia che paura ubriachi sul Frecciarossa. Ubriachi riferito non ai passeggeri che volendo possono anche in un certo senso eccedere nell'utilizzo, nell'uso di sostanze bevande alcoliche, ma ubriachi macchinisti del Frecciarossa. Dico paura perché tutti quelli che come me sovente, ma anche voi in tanti, prendiamo il Frecciarossa per andare a Roma, Napoli o giù di lì. Caspita, siamo su un treno molto bello, molto funzionale, all'avanguardia, che viaggia, viaggia, viaggia veloce. Vediamo spesso la velocità che viene posta in sovimpressione sugli schermi, tanti chilometri, 230 e anche più, e si va. La paura spesso è di dire oddio, dovesse uscire dalla rotaia, oddio, dovesse prendere una curva troppo forte, oddio, il macchinista alla guida, che ne so, frena prima, frena dopo, non frena, aziona male un comando, non è attento, paura. Un po' il discorso dell'aeroplano, il pilota, attenzione, speriamo bene che non abbia bevuto, che sia sobrio, che sia allegro, che non abbia litigato con la moglie, che non abbia idee suicida e che ci porti tutti all'aeroporto di Ciampino, quando vogliamo andare magari a Fiumicino, quando vogliamo andare magari a Roma. Ora, è capitato in una tratta, credo Brescia-Napoli, di aver beccato, e qui parliamo di controlli, servizi, salvaguardia, tutela, freccia rossa neanche contenta, ecco Trenitalia neanche contenta, in buona sostanza un capotreno avrebbe trovato o sarebbero stati coinvolti due macchinisti di Trenitalia, che avrebbero dovuto guidare, poi capire bene come si guidi, non lo so, però guidare questo a Frecciarossa in partenza per Napoli, ma erano assolutamente ubriachi dopo una cena, pare super alcolica, della sera prima. Ora c'è tutta un'interrogazione da parte di associazioni di tutela dei consumatori, della Procura della Repubblica, se vogliamo, per un'interruzione di pubblico servizio, c'è una problematica disciplinare per questi dipendenti di Trenitalia, ovviamente che si sono fatti trovare in questa situazione. Uno, se non ero subito, credo con un tasso addirittura alcolico di 1,96 o comunque grandemente superiore a quelli che sono i limiti consentiti dalla legge, l'altro nemmeno sul posto perché ancora sotto gli effetti della bevuta potente della sera prima e quindi pare l'abbiano poi rintracciato in albergo, portato in ospedale con questo malessere, bloccato il Frecciarossa in questione, dirottati i passeggeri su un altro treno con altri passaggi, con altri ritardi, disagi chiaramente per quelli che da un treno sono passati all'altro e per quelli dell'altro treno che si sono trovati altri passeggeri, le prenotazioni, il collocare le persone e tutto quello che potete benissimo immaginare. Parlavamo se non ero di 67 passeggeri e quindi tutto questo. Che cosa possiamo dire? Bene per il controllo, bene per il capotreno, bene per l'efficacia di quelli che sono appunto i controlli preventivi, a sorpresa o d'altro. C'è andata bene, se vogliamo, nel pensare a questo capotreno che è così, all'intuito di questo capotreno nell'accorgersi di qualcosa che in quel momento non stava funzionando. Ovviamente episodi di questo genere pare non si siano mai verificati sul Trenitalia, rimane però un pochino quella tensione, quella paura, quei dubbi che alle premesse ho un po' esposto quando siamo sul treno che è tutto bello, va tutto bene, ma va velocissimo e spesso ci chiediamo chi possa essere alla guida a nostra tutela. Il discorso ovviamente non vale per i macchinisti solo del Frecciarossa, vale per tutti coloro che magari fanno uso di droghe, bevono, fumano eccessivamente e poi hanno incarichi di grande responsabilità. Pensiamo ad un chirurgo, pensiamo a situazioni dove così è importante e necessario essere lucidi e sobri per evitare ulteriori problemi. Chiaramente è un po' dei responsabile questo comportamento e lì poi se la vedranno sotto tutti i punti di vista e sotto tutti i profili di responsabilità. Il discorso macchinisti, a volte qualcuno dice ma era uno solo, ma in realtà oggi non sono più due, ce n'è uno solo, non c'è un controllo, un po' come il pilota e l'aiuto pilota sugli aeroplani, questo bene non lo so. Bene invece il fatto che si sia sventato questo potenziale pericolo, però era meglio non saperla questa cosa perché da un lato non vogliamo, preferiamo il treno all'aeroplano per mille altri motivi, poi pensare che anche sul treno possono capitare o si possono correre questi rischi, un po' ci preoccupa, vediamo e speriamo che vengono posti rimedi del caso per il Frecciarossa e tutti gli altri treni e tutti i mezzi di trasporto, non ultimo l'autista dell'autobus con tutto quello che magari abbiamo anche sentito in passato. Grazie.